Eccoci, come un po' di due attività, ed è un po' di due attività. E' una rispezione producente con il gioco. Due a nucleare, due a tutti ieri, due a tutti ieri, due a tutti ieri, 12 a tutti ieri, 15 a tutti, 12 a tutti ieri, 16 a tutti ieri, 17 a tutti ieri, 17 a tutti ieri, Grazie a tutti.